bene bene salve a tutti vincent warlike e benvenuti nel mio canale continuiamo la campagna con i Dale che ci siamo lasciati mentre stavamo assediando tre insediamenti dobbiamo passare il turno prima volevo andare dai gli elfi e chiedergli le informazioni geografiche per sapere un po' come sono messi allora ci offrono 200 monete per le nostre va bene dai adesso accettiamo poi vedremo cosa fare perché mi sa che Mordor è già qua da queste parti allora mi stiamo costruendo quindi andiamo a passare il turno andremo un po' sotto pazienza ma se riusciamo a conquistare gli insediamenti direi che non ci sono problemi allora un marito per Wither Wichenwen caro Arken 19 anni leale vabbè non ha nessuna qualità di comando però io direi di ci farebbe spendere un po' più di soldi quindi al momento decliniamo va bene allora nuova missione kelepar ok che questo insediamento qua intanto si sta avvicinando un'armata dei rune andiamo a vedere questi dovrebbero essere gli ultimi insediamenti dei rune non so se ce ne sia anche uno qua in fondo andremo a vedere ok bene allora questo insediamento direi che si può conquistare anche in automatico ottimo quindi occupiamolo e non possiamo fare nient'altro perché non abbiamo soldi per ripararlo vabbè adesso magari lasciamo così e poi andiamo a giocarci la conquista di Mistrad ok guardiamo un po' cosa hanno delle cavallerie uomini con asce vabbè un po' di gente buona ce l'hanno ok quindi andiamo in battaglia allora questo è lo schieramento iniziamo la battaglia ok portiamo qua dietro i nostri shadow ho messo i paletti davanti alla balista per scongiurare un attacco magari se hanno voglia di uscire chi è chissà allora intanto lo schieramento da sedio l'ho messo tutto su questo schieramento quindi già vedo che hanno intenzione di uscire con le cavallerie quindi cerchiamo in qualche maniera ora di eliminarli allora qua me li fai salire ok usciamo con le cavallerie ottimo usciamo con le cavallerie ottimo No, 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 no. La guardia del generale mi attacca i miei uomini. Ok. Ottimo, abbiamo ammazzato il generale il nemico. Andiamo a eliminare questi maledetti. Fermiamo un attimo il tiro. Ottimo. Ok, direi che possiamo andare all'interno del castello senza riete. Correre. Tiriamo via la selva di lance, in modo da andare un po' più in fretta. Avanziamo con i nostri arcieri, ok. Quindi a sto punto abbattiamo le mura. Intanto facciamo un po' di danno. Andiamo a prendere quelle cavallerie. Vai, aprimi, aprimi, aprimi. Ottimo. Dentro. Ottimo. 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 ok mettiamo la selva di lance fermatevi qua un attimo qui abbiamo un'altra fanteria ottimo andiamo dentro qui ci siamo liberati quindi possiamo scendere ottimo mandiamo avanti anche i nostri generali ok avanziamo anche con gli altri bracieri ottimo cosa fanno si sono nascosti allora mandiamo avanti gli alabardieri ok ok vediamo un po' ottimo un po' i ragazzi hanno preso il controllo della città i nostri ragazzi non hanno preso la città correre ok scendete ragazzi allora facciamo andare le cavalierie qua in fondo se però non state lì a pigliare le frecciate qui qui nessuno che apre il portone abbiamo la balista dai butto giù qua continuo a buttare giù qua avanti prendiamogli alle spalle ottimo ottimo la battaglia è molto in nostra favore la vittoria sarà nostra ok prendiamoli alle spalle con quello che ci rimane della nostra cavalleria ma qui stiamo ancora combattendo cerchiamo di fare dei repetuti attacchi di cavalleria eh sì, però non ammazzare i miei, caro balista scusate, non si può più distruggere? vai qua, va fermiamo il tiro, conserviamo un po' di frecce che non fanno mai male oh, finalmente abbiamo eliminato anche questi qui carichiamo un po' di un po' di frecce che ci fai ok avanti avanti ci riusciamo o no a portare a casa questa sedia ragazzi sicuramente è molto tosto iniziamo a dare una sfoltita qua in mezzo anche se faremo un po' di fuoco amico fa lo stesso un po' di fuoco amico dai su arrivano le frecce no una cavalleria sola c'è un cavaliere solo è rimasto miseria questa sedia si sta rivelando più ostico del previsto i men have taken control of the city ma che c'è rimasto quattro metti chi ha un classman e dai su miseria che sofferenza ci siamo riusciti o no si 700 perdite e va bene dai è un sedio e ci sta andiamo avanti ok occupiamo l'insediamento mordor non piace quello che sto facendo io direi che comunque dovremmo rendergli pan per focaccia quando verranno ad assediarci sempre se assediano questo insediamento non so cosa vogliono fare diamo un'occhiata qua cosa c'è niente di che mi sembra ok guardiamo un po' l'insediamento dobbiamo andare a riparare le mura ok da fare il retrain per queste unità ottimo va bene siamo ritornati in positivo qui continuerei l'assedio perché qua delle unità ce ne sono stavolta ci sono un po' meno già vellottiste un po' più di fanterie e arcieri in più hanno queste unità qua però vabbè noi siamo pronti mi piacerebbe magari provare ad attaccarli fuori dalle mura quindi continuerei l'assedio direi di concludere qua questi episodi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao a tutti alla prossima